De Luca agli studenti solo vaccinati in classe si entra nella fase decisiva per la riapertura delle scuole il governatore rinnova l'invito ai ragazzi a sottoporsi al siero per garantire il rientro in classe in sicurezza intanto il covid a Napoli uccide Paolo Tortora re della ristorazione Gratta e Vinci rubato la difesa del tabaccaio il negoziante di Napoli fermato per il furto del biglietto vincente va al contrattacco e dice sono io la vittima il biglietto è mio intanto l'agenzia dei monopoli ha bloccato la riscossione sospesa la licenza della ricevitoria Comunali Conte e Fico a Napoli per Manfredi l'ex premier difende il reddito di cittadinanza attacchi vergognosi e il presidente della camera assicura movimento compatto da Napoli però parte l'offensiva giudiziaria contro la nomina di Conte al vertice dei 5 Stelle Salerno nuova svolta per i lavori all'aeroporto un altro passo in avanti per il costa d'Amalfi avanza la fase progettuale e il cantiere dello scalo questa mattina in città il governatore De Luca ha fatto il punto sull'infrastruttura Prete e Cascone opera strategica per la città Rebus scuole in Irpini a vaccini il sannio accelera i bus devono fermarsi vicino agli istituti il prefetto di Avendino detta le regole per il piano di rientro nel Beneventano nuovi open day dell'Asla da oggi per convincere gli indecisi a vaccinarsi una vittima nel Salernitano Napoli Benevento e il derby in diretta su 8 Channel stasera l'I21 amichevole di lusso per i giallorossi sanniti contro la squadra di Spalletti allo stadio Maradona esclusiva in chiaro da partita sul canale 696 TV del digitale terrestre in tribuna Vigorito e De Laurentis E questi erano i nostri titoli Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696 Il primo piano è dedicato ovviamente al Covid in campagna si entra nella settimana decisiva per la campagna di immunizzazione rivolta agli studenti e Vincenzo De Luca rinnova l'invito ai giovanissimi a sottoporsi al siero per garantire un rientro in classe in sicurezza Ma intanto il Covid fa ancora troppe vittime nella nostra regione Vediamo Nella campagna dove i ricoverati sono per il 90% non vaccinati mentre in terapia intensiva la percentuale sale al 100% è indispensabile accelerare la campagna di immunizzazione Il manager dell'azienda dei Colli Maurizio Di Mauro a Radio CRC snocciole i dati dei pazienti ricoverati in ospedale e Vincenzo De Luca raccoglie l'appello del capo dello Stato Sergio Mattarella sui vaccini e ribadisce la necessità di immunizzare i ragazzi Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti Abbiamo ascoltato ieri l'appello appassionato del Presidente della Repubblica Ma come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita come diciamo noi e a tenere aperta l'economia nel nostro paese per evitare di dover chiudere fra due mesi bar, ristoranti, fabbriche, attività commerciali Se vacciniamo anche la popolazione studentesca allora davvero potremo avere un anno scolastico in grande serenità Da De Luca anche una battuta sulle amministrative di Napoli e Salerno Tradizionalmente non sono annoverato fra i portaseccia Le vedo bene, le vedo bene Ovviamente dipende dagli elettori Numeri incoraggianti intanto sulle somministrazioni in farmacia 20.000 le dosi inoculate nel territorio dell'Asl Napoli 1 Centro Federfarma fa sapere che la campagna prosegue e ci saranno nuovi punti dove vaccinarsi Intanto il Covid continua ad uccidere Napoli piange Paolo Tortora L'imprenditore 61enne molto noto nel campo della ristorazione era anche impegnato in ambito sociale La cronaca ha corrotto Un funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Napoli distaccato a Benevento per fare in modo che si occupasse delle pratiche di rimborso delle accise presentate dall'azienda per la quale lavora è l'accusa che la procura di Napoli PM R. John Woodcock contesta ad un uomo di 49 anni dirigente di fatto di un'azienda di San Gennaro Vesuviano che si occupa del recupero e dello smaltimento di materiale plastico nei suoi confronti il GIP ha emesso un provvedimento cautelare gli arresti domiciliari notificato oggi dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna Un'analoga misura cautelare è stata emessa anche nei confronti del funzionario dell'Agenzia delle Dogane Le richieste di rimborso di cui il dipendente pubblico si doveva occupare riguardano il carburante destinato alla produzione di energia elettrica utilizzata a soddisfare il fabbisogno dell'opificio per il quale il 49enne lavora Il tabaccaio di Napoli fermato per il furto del biglietto vincente va al contrattacco e dice sono io la vittima, il biglietto è mio Sentiamo Va al contrattacco Gaetano Scutellaro il tabaccaio di Napoli fermato domenica a Fiumicino è denunciato per il furto di un gratta e vinci da 500.000 euro dopo la denuncia di un'anziana cliente che lo ha accusato di essersi impossessato del suo tagliando una volta saputo che aveva centrato la maxi vincita e di essere scappato in scooter L'uomo è stato individuato dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Fiumicino mentre si accingeva a partire per le Canarie senza peraltro essere in possesso del fatidico biglietto Scutellaro, finito su tutti i siti internet e su tutti i giornali italiani ha rispedito all'anziana le accuse lo ha fatto quando la polizia di frontiera gli ha chiesto di restituire il tagliando lui ha detto di non averlo cosa in effetti vera ma ha sostenuto di essere lui la vittima del furto e ha annunciato di voler denunciare l'anziana per calunnia insomma un autentico giallo gli inquirenti che hanno denunciato Scutellaro per furto non ne sono convinti l'uomo, ritengono, potrebbe aver depositato il tagliando in una banca di Latina dove avrebbe anche acquistato il biglietto per le Canarie il tagliando comunque è stato subito bloccato dopo la denuncia della donna e nessuno può riscuotere la vincita fino a quando non sarà completata l'inchiesta e dall'indagine emerge un particolare il tabaccaio avrebbe usato il cellulare per verificare tagliando intanto è stata sospesa la licenza del negozio alla moglie ancora incidenti sul lavoro in Campania dopo la morte del 34enne a Pomigliano d'Arco travolto da un braccio meccanico all'interno di una ditta questa mattina si sono registrati due feriti per il crollo del solaio in un cantiere edile a Montesano sulla Marcellana nel Salernitano stando ad una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto durante alcuni interventi di ristrutturazione il cedimento del soffitto ha travolto i due lavoratori ad avere la peggio è stato un 52enne di nazionalità rumena trasportato in elieambulanza al Ruggi di Salerno per il collega originario di Padula riscontrate ferite e lesioni agli arti la politica alle comunale oggi il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte è tornato a Napoli per lanciare la volata al candidato del centro-sinistra Gaetano Manfredi e attacca da Napoli la Meloni per difendere il reddito di cittadinanza e Roberto Fico rassicura tutti il movimento è compatto sentiamo bagno di folla per Giuseppe Conte e Roberto Fico che da Napoli rilanciano la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi quello di Napoli è un laboratorio unico in Italia la sola grande città dove PD e 5 Stelle sono alleati per le amministrative per Conte anche un'occasione per confermare la sua leadership a capo del movimento al fianco del presidente della Camera proprio nella città in cui i 5 Stelle conservano grande consenso anche grazie al reddito di cittadinanza e Conte difende la misura voluta dai grillini contro gli attacchi di Giorgia Meloni trovo folle che persone esponenti politici peraltro che hanno trattamenti economici privilegiati vengano e pretendano di abrucare una misura di civiltà nei confronti di chi non è nua a Napoli il movimento 5 Stelle non è spaccato assicura Fico i dissidenti dei 5 Stelle con Matteo Brambilla hanno costituito una lista a parte per le comunali per me oggi è una bella giornata del movimento 5 Stelle di Napoli abbiamo fatto un lavoro faticoso io credo un ottimo lavoro e con questo ci muoviamo per prospettive anche future la spaccatura a Napoli di 5 Stelle c'è Brambilla candidato la preoccupa? bocca al lupo ma intanto proprio oggi dal capoluogo partenopeo parte la prima offensiva legale contro il voto che ha eletto Conte il leader del movimento e indirittura d'arrivo infatti la notifica del ricorso giudiziario per l'annullamento del nuovo statuto e un gruppo di attivisti della prima ora ha impugnato oltre allo statuto anche la votazione con cui Conte è stato incoronato presidente dei 5 Stelle a Benevento due candidati consiglieri in meno rispetto ai 600 iniziali e la lista essere democratici del gruppo PD del comune che sostiene Mastella obbligata a cambiare simbolo via libera della commissione elettorale alle altre liste presentate per le amministrative di Benevento vediamo due candidati in meno rispetto agli iniziali 600 e un simbolo modificato sul ricorso di un'altra lista questi nodi affrontati dalla commissione elettorale prima di dare il via libera alla squadra in competizione per le amministrative del prossimo ottobre a Benevento ora sono 598 i candidati dopo l'autoesclusione di Roberto Marino in lista con Europa Verde formazione della coalizione di Angelo Moretti e l'esclusione per documentazione incompleta di Cornelia Cosa candidata nella lista prima a Benevento con Rosetta D'Estasio obbligata invece a modificare il logo la squadra di Essere Democratici nata dal gruppo consigliare PD che sosterrà però Mastella il ramoscello d'ulivo al centro del ricorso del Partito Democratico che ha ottenuto dalla commissione elettorale la modifica richiesta riguardo alla posizione dei candidati sulla scheda elettorale l'ordine del sorteggio prevede invece Mastella Moretti D'Estasio e Perifano e dal forum dei giovani riunito per la prima assemblea un appello alla politica per quanto riguarda le politiche giovanili noi chiediamo un'attenzione ai programmi seria che guardi soprattutto come è stato detto al mondo del lavoro la disoccupazione giovanile è un tema che noi abbiamo già affrontato immaginiamo di creare un desk per l'incrocio tra l'offerta e la domanda nel mondo del lavoro giovanile questo è un impegno un altro passo per l'aeroporto di Salerno avanza la fase progettuale il cantiere per il decollo dello scalo questa mattina in città il governatore De Luca ha fatto il punto sull'importante infrastruttura vediamo la regione ha investito complessivamente un miliardo e mezzo di euro per le infrastrutture di Salerno dopo decenni di abbandono e nel computo a fare la parte del leone e il piano per rendere il costa d'Amalfi il secondo aeroporto della campagna dopo Napoli all'hotel Mediterranea Vincenzo De Luca incontra il territorio e rivendica il cronoprogramma degli interventi per quella che viene definita un'opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo di Salerno e non solo Certamente la fusione con Gesac è stata determinante perché ha dato quella credibilità economica al progetto che consente oggi di vedere questo come veramente il secondo scalo della campagna in una regione che ha nel turismo soprattutto delle grandi opportunità e quindi l'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano potrà contribuire a investire su questo tema sul turismo Ora siamo nella procedura di realizzazione dei lavori della pista prima fase a 2000 metri poi arriveremo nella seconda fase a 2200 già autorizzate nel Massepan questo è molto importante da precisare è stata conclusa la fase di scelta del progettista per l'aerostazione quindi veramente siamo come dire alle battute iniziali per concretizzare questo grande progetto che questa città ha aspettato 20 anni L'iter burocratico per lo scalo dunque prosegue da superare anche le incognite legate agli espropri anche se la regione è fiduciosa che si possa chiudere la partita nel giro di pochi mesi in questa fase c'è una dialettica dagli uffici di GESAC e i privati che sicuramente andrà a buon fine loro stimano nell'arco di tre mesi di chiudere tutte le procedure di espropri e quindi avere tutte le aree a disposizione per iniziare a pieni lavori Ad Avellino i bus devono fermarsi davanti alle scuole il prefetto Paola Spena detta le regole per il rientro a scuola vediamo Campagna vaccinale a rilento con solo 269 dosi inoculati in una domenica flop e una nuova fiammata di contagi da rientro dalle vacanze che interessa anche Avellino Capoluogo Sindaci e amministratori predicano cautela invitano tutti a vaccinarsi soprattutto gli studenti in vista del ritorno in classe e il prefetto di Avellino Paola Spena annuncia il potenziamento dei mezzi di trasporto per evitare assembramenti e scongiurare il caos Si cercherà di fare in modo che nelle fasce orarie interessate i mezzi che arrivano e che come sapete hanno orari scaglionati per il biennio e per il triennio per il capoluogo possano portare i ragazzi essenzialmente garantire una fermata al campus quindi questo dovrebbe diciamo favorire la migliore partecipazione c'è una buona percentuale di vaccinati tra i ragazzi ci sarà il camper dell'asl per un certo periodo per favorire eventuali altre vaccinazioni insomma ci sono tutta una serie di misure da mettere in campo ma siamo abbastanza diciamo fiduciosi che si andrà avanti e certamente i mezzi che circoleranno per le scuole saranno anche i mezzi nuovi intanto i sindacati oggi di nuovo a confronto col prefetto provveditore assessore comunale Giacobbe pongono la questione che rende più difficile la logistica che quella del controllo dei green pass obbligatori per personale prof e altri lavoratori nel sannio al via oggi gli open day promossi dall'asl 6 i comuni coinvolti per 5 giorni a partire dal capoluogo vediamo comunque si deve fare pure per andare a scuola per l'età abbiamo aspettato la speranza è quella di stare in presenza soprattutto giovani accompagnati dai genitori che hanno deciso di fare il vaccino in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico ma anche tanti over 50 che ancora non avevano aderito alla campagna di immunizzazione al via questa mattina nel sannio gli open day promossi dall'asl in 6 comuni per 5 giorni dopo aver raggiunto l'82% di cittadini che hanno ricevuto la prima dose infatti l'azienda sanitaria di Vio De Risi o puntora a dare un'ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale ed il riscontro della prima giornata sembra rispondere alle aspettative abbiamo raggiunto un'alta percentuale di vaccinati per le prime dosi e un buon numero di seconde dosi con questi open day stanno arrivando un po' tutti tutti quelli che erano tentennanti questa tendenza a non vaccinarsi è stata superata voi anche per l'obblighi che hanno e voi perché forse si sono convinti noi stiamo avendo un buon risultato l'accesso è buono e speriamo di ultimare in breve tempo le vaccinazioni per tutti e in vista del ritorno in classe anche i più piccoli si sono recati presso lab per la vaccinazione come fascia di età mancavano 25-40 e anche una fascia 50-60 e i piccolini stanno venendo tutti vaccinazioni i contagi e rientro in classe anche a Salerno l'amministrazione comunale si sta attivando intanto calano i contagi ma c'è un'altra vittima a Baronissi vediamo cresce il numero delle persone vaccinate nel Salernitano e calano nettamente i contagi da Covid-19 ma non si fermano i lutti nelle ultime ore è morto all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dopo aver contratto il virus un 74enne di Baronissi a comunicarlo proprio il sindaco Gianfranco Valiante con un post sui social ancora dolore e preoccupazione esorto le persone non vaccinate a farlo al più presto l'invito della fascia tricolore un appello che rimbalza anche nel capoluogo dove questa è una settimana di sprint alla campagna di inoculazioni prima della riapertura delle scuole il sindaco Napoli sta procedendo intanto con gli incontri negli istituti cittadini sto incontrando doverosamente tutti i dirigenti abitudine che ho sempre rispettato nel corso degli anni ogni anno abbiamo verificato una grande disponibilità un grande entusiasmo da parte anche dei dirigenti che si sono avvicendati ho la speranza di credere che potrà essere un anno scolastico sostanzialmente normale e che già mi pare un grandissimo traguardo stando le vicende della pandemia che ci hanno afflitto gli ultimi due anni non solo il covid crea preoccupazione nel salernitano paura all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove questa notte una 17enne è precipitata dal quarto piano dello stabile la giovane di origine indiana da anni residente a buon abitacolo era ricoverata nel reparto di medicina poco dopo la mezzanotte si sarebbe lanciata nel vuoto dopo aver lasciato un biglietto ai familiari le sue condizioni sarebbero critiche torniamo ad Avellino e braccio di ferro tra le associazioni il comune in particolare tra l'associazione avionica e l'amministrazione festa che accusa i ragazzi di aver degradato lo spazio che gli era stato affidato vediamo continua il braccio di ferro tra comune l'associazione avionica dopo il secondo blitz della pulizia municipale nella struttura della casina del principe dopo le foto del presunto degrado questa mattina i ragazzi di avionica hanno aperto le porte della struttura proprio per mostrare che il degrado di cui sono stati accusati non esiste siamo stati attaccati facendo le foto in un unico ambiente non affidato a noi in cui anche noi abbiamo poggiato delle cose come magazzino dato che fossero utilizzate da lì si è attaccata tutta un'esperienza noi quello che vorremmo è semplicemente dialogare su un terreno di verità e quindi provare a far sì che l'amministrazione si esprima su quella che è stata questa esperienza al di là delle singole questioni evitare attacchi beceri o macchine del fango cioè provare a capire cosa pensa l'amministrazione di quello che è avvenuto qui dentro diciamo il tentativo di oggi è appunto provare a riportare la discussione su un terreno di verità per provare a confrontarci su quella che è stata l'esperienza di avionica del progetto Jump al fianco dei ragazzi di avionica questa mattina c'era il consigliere comunale di opposizione Luca Cipriano la festa bene farebbe a fare un po' di autocritica a chiedere scusa a questi ragazzi che devo dire negli ultimi tre anni con grande spirito di sacrificio hanno lavorato alla casina del principe sono diciamo curioso lancio pubblicamente una sfida scommettiamo che dal 31 ottobre qualcosa in questo edificio cambierà cioè dalla data in cui scade la convenzione con queste persone non è possibile utilizzare questi metodi che sono metodi barbarici per in qualche modo demotivare allontanare o mandare via persone non gradite magari politicamente non gradite magari persone che si impegnano gratuitamente per la propria città in una città dove insomma oltre a le solite luminari i fuochi e tante chiacchiere nulla è rimasto ore di ansia a Salerno per la scomparsa di un 31enne Guglielmo Belmonte giovane non si hanno più notizie di questo ragazzo dal pomeriggio di venerdì scorso si sarebbe allontanato dalla sua casa del centro lasciando cellulare e portafoglio con denaro e documenti e a denunciare la scomparsa dello studente Luis la madre Rita Francese docente di informatica all'Ateneo Salernitano la donna che ha detto che il 31enne potrebbe essersi diretto a Roma ha rivolto anche un appello sui social condiviso anche dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli Guglielmo Belmonte sarebbe stato visto salire a bordo di una Toyota nera e arancione traffico bloccato e caos nei pressi della stazione ferroviaria centrale da quando a Benevento sono state quadruplicate le linee ferroviarie ad alte velocità di Italo e Frecciarossa per questo motivo i sindacati ora chiedono più controlli ma dal comune rassicurano presto partiranno i lavori vediamo bus sostitutivi in oggettiva difficoltà nell'effettuare le fermate e le manovre dinanzi alla stazione ferroviaria centrale di Benevento a causa delle tante auto in sosta in attesa dei numerosi treni ad alta velocità che ormai da tre mesi fanno scalo nel capoluogo Sannita a questo si aggiunge la chiusura per lavori della variante di via Grimoaldori lavori terminati ma la strada continua a restare chiusa ora il sindacato Fast Confsal chiede con una nota firma del segretario generale Vincenzo D'Amelia maggiori controlli e una rapida risoluzione rimarcando la necessità di un terminal bus a ridosso proprio della stazione centrale D'Amelia ha ragione perché di fatto quell'area purtroppo ha una condizione disastrata perché fare una piazza così grande con quella fontana è stato come dire insomma un azzardo ci sarà la riorganizzazione e la ristrutturazione del fabbricato viaggiatore della sede ferroviaria vicino alla stazione ferroviaria avverrà il terminal bus di tutti gli autobus urbani ed extraurbani ci sarà come dire una sorta di rotonda che consentirà ai taxi agli autobus alle auto di poter raggiungere in quella stazione non solo lavori a rione ferrovia ma anche in altre zone della città dove saranno apportate importanti modifiche al traffico abbiamo già individuato ed è in atto l'intervento sul mcdonald's perché il piano della mobilità così come dicevamo noi andrà a poter concentrare degli interventi specifici su determinate aree della città torniamo ad Avellino si rompe la condotta in via circunvalazione acqua fango in strada e rubinetti a secco ieri notte in città vediamo esplode la conduttura dell'acqua disagi in via circunvalazione ad Avellino ieri sera acqua e fango nella strada con tombini saltati e disagi per i residenti si tratta di una condutta degli anni 60 è una 300 ovviamente particolarmente fatiscente ieri sera provvisamente abbiamo avuto questa rottura in tarda serata che ha creato qualche piccolo problema ma soprattutto nei punti alti della città perché si tratta di una condotta idrica che serve l'80% del centro di Avellino stamane via le operazioni dei tecnici dell'alto calore che hanno dovuto attendere l'interruzione dell'energia elettrica nel tratto interessato per consentire di procedere con gli interventi in sicurezza è una situazione che purtroppo si sta generalizzando su quasi tutte e 6.000 chilometri di condotte che gestisce l'alto calore le condotte sono quasi nella sua totalità completamente obsolete quindi è chiaro che è antieconomico perfino riparare oggi come stanno le condizioni ma la rete idrica tra Irpini e Sagno gestita dall'alto calore è allo stremo siamo arrivati a 35-40 cantieri al giorno spendendo 6-7.000 euro al giorno solo di manutenzione su reti che purtroppo andrebbero sostituite i progetti sono pronti stiamo cercando un po' di accelerare la burocrazia che è complessa però la regione in questo senso sta almeno nell'ultimo periodo ci sta stando vicino e ci sta tranquillizzando e con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Michele Urciolo grazie per l'attenzione arrivederci a presto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.